Un viaggio attraverso Napoli, attraverso il suo tessuto sociale e quello politico, che parte dagli anni 70 e arriva fino ai giorni nostri. Al PAN è in mostra la Napoli di Maurizio, un percorso fotografico che racconta la città del sindaco Maurizio Valenzi negli scatti di alcuni dei più grandi fotografi in circolazione, organizzata dalla Fondazione Valenzi, che si è mostrata attenta non solo al passato, ma anche al presente, e ha organizzato, in collaborazione con Perfetti Sconosciuti, la proiezione di 27 scatti di Marco Sales, giovane fotografo partenopeo. Il progetto di Sales, faccia da politica verso la Terza Repubblica, racconta gli sguardi, le espressioni e i gesti dei maggiori leader politici nazionali e locali nelle rispettive campagne elettorali, durante un comizio, un evento istituzionale, un incontro con i cittadini. La mostra è stata illustrata dal critico fotografico dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli, Luca Sorbo. È davvero bello che in questo caso questo tributo sia stato dato a una città che da tempo ha sicuramente protagonisti politici che possono far parlare della città e di se stessi. La capacità attraverso le immagini di comunicare, non in maniera fredda, ma in maniera intensa, vera, e di lasciare un segno. È bellissimo perché è un'arte, è una grande capacità, che riconosco a chi ha costruito, cioè a Marco Sales, questa mostra. Innanzitutto voglio fare i complimenti a Marco Sales perché è una mostra davvero bella, con fotografie contemporanee che ripercorrono soprattutto personaggi politici della nostra città. Quindi sono fotografie molto belle, nelle quali tra l'altro ci siamo anche riconosciuti in alcuni momenti decisivi della storia di questa città, dalla visita del Papa alle campagne referendarie, alle campagne elettorali. Poi certe volte una fotografia vale più di tante parole. Negli ultimi tre anni abbiamo provato a raccontare con una raccolta di circa 20 fotografie, campagne elettorali per le politiche, regionali, referendum e le amministrative. Sono tutti leader che sono passati per Napoli, hanno fatto campagne elettorali su Napoli e viene raccontata forse in un modo un po' più particolare, non tanto considerato, non viene messa in luce molto l'estetica della fotografia, quanto il modo di raccontare la politica con la fotografia. Grazie a tutti.